Sicuramente una presenza importante, questo è per noi il motivo di vanto, anche perché soprattutto nel motocross cerchiamo sempre di partire, di investire, partendo dalla base che sono i giovani. L'abbinamento del nostro trofeo al campionato italiano minicross sicuramente non è casuale, appunto non è casuale perché i ragazzini vogliamo anche far vedere quale possono essere in un'ottica futura naturalmente anche le loro prospettive e far capire che soprattutto l'azienda è vicino loro. Sicuramente proseguiremo in quella che è stata l'attività quest'anno di supporto alla rete concessionari per quanto riguarda le attività sportive, dove abbiamo dato naturalmente una mano a chi aveva ragazzi, ragazzini, a chi correvano anche nel minicross, che partecipavano al campionato italiano. Riproporremo ancora il nostro trofeo che veramente ci sta dando grossissime soddisfazioni e cercheremo ancora di più di aumentare quella che è la presenza di KTM all'interno di tutte le gare di motocross in Italia. Riproporremo ancora il nostro trofeo al campionato italiano.